Ben trovati da Gerardo Paterna per ReTV, oggi un'intervista speciale con un ospite speciale, infatti parliamo in questa intervista proprio di recruiting, di reclutamento, di ricerca di agenti immobiliari da inserire in una rete immobiliare molto molto importante. Lo facciamo insieme a Christophe Feikenbutz, che è area manager di Engel & Folkers Italia. Ciao Christophe e grazie per essere qui. Ciao Gerardo, grazie dell'invito. Benissimo. Allora, dall'accento che abbiamo subito che non sei milanese, cosa ci fai qui in Italia? Infatti non sono milanese, sono tedesco, sono in Italia da ormai tre anni per la Engel & Folkers qui in Italia e devo dire che mi trovo molto bene qui in Italia ed è un piacere essere qua oggi con voi e con i vostri spettatori. Grazie, grazie mille Christophe. Allora, cominciamo subito così a parlarci di Engel & Folkers. Quindi abbiamo già avuto qui in studio ospito Alberto Cogliati che ci ha parlato lungamente dell'azienda, però è importante che magari ce la rappresenti un po' da uomo dell'azienda ma è indipendente rispetto diciamo al direttorio ufficiale. Ecco, quindi come vedi questa società? Cosa fate? Come vi posizionate? Allora, Engel & Folkers, noi siamo leader nel mercato di intermediazione immobiliare nel settore di pregio. siamo presenti con oltre 700 uffici in tutto il mondo in 37 paesi su quattro continenti quindi abbiamo attualmente 8.000 collaboratori in tutto il mondo. Siamo presenti nel settore residenziale, commerciale, c'è anche la divisione aviation quindi per chat privati, poi c'è anche la divisione yachting per yacht di lusso e poi siamo presenti anche con resort di un certo livello anche in tutto il mondo. Il nostro core business è il settore residenziale, qui siamo forti anche in Italia abbiamo attualmente, attualmente vediamo una forte crescita anche in Italia con 55 licenze 32 shop sono già operativi quindi gli altri sono nella fase iniziale, fase di start up e questo è anche il motivo per cui sono qua oggi perché con questa crescita forte in Italia stiamo cercando agenti immobiliari in tutta l'Italia. Ah, benissimo. In Italia dove siete presenti come regione? Sì, forse vediamo la mappa adesso, come possiamo vedere siamo presenti in tutta l'Italia iniziando dal nord-ovest in Liguria con la nuova apertura a Imperia, a Lassio anche in Valle d'Aosta saremo presenti operativi tra breve, poi vediamo anche al nord i laghi come il lago di Como, il lago Maggiore, il lago di Seo, il lago di Garda, poi anche in Veneto con Venezia prossima apertura anche a Jesolo, importanti saranno anche le aperture di Verona e di Padova poi nelle grandi città siamo a Milano ovviamente, a Roma con il Metropolitan Market Center con attualmente 200 agenti immobiliari operativi. dove c'è Marco Ronini che salutiamo, ciao Marco. Ciao Marco, sì, stanno facendo un ottimo lavoro a Roma con attualmente 200 agenti immobiliari ma poi ci saranno delle aperture anche a Sabaudia, una località importante, a Olbia siamo già presenti a Porto Cervo come sappiamo, ma anche al sud a Galipoli, a Legge saranno le prossime aperture e poi in Sicilia siamo forti, con i nostri shop le prossime aperture in Sicilia saranno a Trapani e anche a Catania e poi non vorrei dimenticare la Toscana con gli shop a Firenze, Viereggio, a Siena e poi un'altra apertura importante sarà a Civitanova Marche e quindi Sì, come ultima location vorrei anche nominare l'Alto Addice, quindi al nord con l'apertura di Merano, di Bolzano, a Cortina siamo presenti, quindi come vediamo in tutta l'Italia stiamo cercando in tutta l'Italia attualmente il numero di 300 agenti immobiliari in tutta l'Italia. Quindi su mercati, da quello che ho sentito comunque, che conservano di valori immobiliari importanti e che attirano una clientela comunque straniera in modo rilevante, quindi diciamo si sposa perfettamente questo tipo di mercato, di mercati con la vostra politica di lavorare sicuramente in un segmento di livello direi medio alto, ecco. Esatto, il segmento è medio alto, quindi siamo operativi nel settore di pregio che in questo settore non abbiamo visto la crisi, quindi anche negli ultimi anni abbiamo realizzato una crescita importante in Italia, l'anno scorso abbiamo raddoppiato il nostro fatturato qui in Italia e quindi le tendenze sono molto positive e come dici anche tu Gerardo, quindi la richiesta internazionale c'è, ci sono dei clienti dalla Germania, ovviamente dal Belgio un po' meno adesso gli inglesi, soprattutto con il Brexit, ma poi la richiesta anche internazionale come dagli Stati Uniti, abbiamo avuto una vendita importante con un cliente dal Brasile proprio internazionale, soprattutto nei mercati di seconda casa e questo definisce anche il profilo della gente immobiliare che stiamo cercando. Infatti la domanda è proprio quello, che tipo di profilo state cercando? So che in Engel & Falkers sono tutti quanti magri, alti, belli, con gli occhi azzurri, quindi Alberto mi ha già detto che se voglio entrare in azienda devo prendere almeno 15 chili e farmi di crescere i capelli, infatti è malato te per umiliarmi un po' oggi, raccontaci un po' allora, chi state cercando? Sì, stiamo cercando accenti di un certo livello, non devono essere magri, alti, biondi, ma devono avere delle qualità, ovviamente stiamo cercando gli accenti migliori sul mercato, perché la clientela è di un certo livello, quindi se abbiamo una richiesta internazionale i nostri futuri accenti collaboratori devono parlare, sì l'italiano deve essere perfetto, ma anche la conoscenza della lingua inglese è importante e poi parlando dei mercati al nord, ad esempio dei laghi, il lago di Garda, qua una lingua, una competenza, conoscenza della lingua tedesca è importante, ma anche altre lingue come il francese, altre competenze possono essere un plus, ma non è obbligatorio parlare cinque lingue per entrare in anglo focus, importante anche la competenza di comunicazione, quindi per gestire rapporti con clienti esigenti di un certo livello, le trattative, parlando di trattative con immobili di un milione e su, possono essere anche più lunghe, quindi è anche importante la capacità di poter relazionarsi con il cliente, quindi di creare un certo rapporto di fiducia anche con questi clienti, mantenere questo rapporto anche nel tempo, quindi noi come Anglum Focus mettiamo a disposizione anche una certa formazione, la leadership dai nostri team leader, dagli office manager per lavorare a queste competenze, poi è importante anche il lavoro di squadra, questo è importante, quindi noi parlando di una realtà con 15-20 agenti immobiliari per uno shop, se uno ha il cliente acquirente, l'altro ha la proprietà, è importante parlarsi, ottimizzare il processo di vendita, quindi lo spirito di collaborazione, non soltanto all'interno dello shop, ma all'interno della rete di Anglum Focus è importante perché è uno spirito che vediamo non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, questo spirito di collaborazione, tante generazioni ci arrivano da altri paesi anche, e questo anche il brand, la rete internazionale che è un valore importante di Anglum Focus che crea business aggiunto per tutti gli shop e quindi anche per il singolo agente immobiliare. Poi un altro punto importante è lo spirito imprenditoriale di un agente immobiliare perché noi affidiamo una zona di competenza al singolo agente e quindi l'agente essendo responsabile per questa zona in esclusiva deve gestire la sua zona in maniera proattiva, deve essere presente nel territorio, deve essere anche ambasciatore del marco Anglum Focus, dei servizi, del metodo di Anglum Focus, degli immobili più importanti che avrà il portafoglio per commercializzare. Quindi qua ci vuole un certo spirito imprenditoriale anche per essere presente nella propria area di competenza. Bene. Cristofo, allora parliamo agli agenti immobiliari che sono sicuramente molto sensibili al tema diciamo delle prospettive economiche. Quindi cosa offrite voi su un piano economico? e la seconda domanda che vorrei farti è che cosa vi differenzia rispetto ai competitors che in questo momento sono anche loro alla ricerca di possibili candidati. Ok. Per il sistema di remunerazione offriamo un piano orientato alle vendite. Quindi se uno è bravo, se uno gestisce bene il contatto con i clienti, se uno sa come fare o quello che impara, poi da noi come fare le acquisizioni di un certo tipo, avrà opportunità di guadagno molto elevate. Quindi abbiamo degli agenti immobiliari che sono in Anglum Focus da tanti anni, da 10 anni, da 15, da 20 anni, che guadagnano molto bene anche grazie a questo piano tarifario, questo piano di remunerazione e poi anche approfittando del marchio, del brand, della rete internazionale è possibile aumentare la visibilità dello shop e del singolo agente. Quindi noi mettiamo a disposizione la piattaforma migliore sul mercato, quindi questo è l'obiettivo. L'agente avrà tutti questi strumenti a disposizione, quindi o in ufficio, nello shop, oppure a casa, quando sarà fuori anche per gli appuntamenti, per le visite, l'agente avrà accesso a questa piattaforma, quindi per offrire il servizio migliore al cliente. Poi mettiamo a disposizione un piano di onboarding, quindi se uno inizia in Anglum Focus, se il nuovo agente ha esperienze nel settore delle vendite, ad esempio, poca esperienza nel settore immobiliare, ma anche per quelli che hanno già tante esperienze nel settore immobiliare, ci sarà un piano di onboarding dedicato per ogni singolo agente, quindi l'agente viene seguito dal office manager, dal team leader, dall'assistente e così, quindi non sarà mai solo questo agente. Spieghiamo come fare l'acquisizione, come gestire i rapporti con i clienti e cosa significa lavorare con il metodo Anglum Focus. Il metodo ci differenzia anche dagli altri, quindi un servizio dedicato a ogni singolo cliente, un servizio su misura e quindi tutti o tanti clienti che hanno venduto, che hanno comprato con Anglum Focus, tornano per la prossima trattativa anche in Anglum Focus e questo è anche un punto che ci differenzia dagli altri. Cioè la fedeltà del cliente. La fedeltà del cliente, esatto. E poi dopo questo piano di onboarding c'è anche un corso di formazione della nostra Academy di Anglum Focus, quindi il nuovo agente avrà una settimana di training molto intensivo con webinar prima del corso, con webinar anche dopo questo corso, con altri agenti immobiliari di tutta l'Italia, quindi l'agente avrà il modo di conoscere tutti gli altri agenti immobiliari, license partner in tutta l'Italia, ma sarà un training dedicato alle vendite, alle sue competenze, alla sua crescita professionale che continuerà poi anche dopo questo corso. Il nostro obiettivo è di avere gli agenti immobiliari non soltanto per pochi mesi, ma di creare e di stabilire una collaborazione a medio, a lungo termine, come dicevo prima, quindi ci sono tanti agenti immobiliari che sono in Anglum Focus da tanti anni e questo è l'obiettivo. Quindi avere gli agenti immobiliari migliori del mercato che sono in grado di gestire questi rapporti. I migliori clienti del mercato. I migliori clienti del mercato, esatto. Quindi mettiamo tutto a disposizione per il successo del nuovo agente immobiliare. Possiamo dire quindi, per restare un attimo sul tema economico, che in funzione delle competenze e del profilo del candidato vestirete un'offerta economica a misura? Esatto, è così. Non hai fatto prima, non ci hai dato numeri percentuali, cose che alcuni altri diciamo mettono sul tavolo subito, quindi ci fai pensare che comunque ci sia una profilazione anche del possibile candidato e quindi una proposta economica che sia compatibile con le competenze dell'agente immobiliare. Esatto, quindi anche questo piano è ovviamente su misura. Quindi noi avendo delle candidature, dei candidati molto interessanti, questi candidati sono fortemente anche motivati. Quindi se un candidato ci dice sì, io vorrei guadagnare questo, poi troviamo il modo per arrivare a queste cifre e poi è tutto studiato prima. Quindi abbiamo definito anche le zone del singolo agente e quindi ogni agente in England Focus avrà lo stesso potenziale, l'obiettivo di arrivare al 10% del mercato e poi definiamo tutta l'attività che è da fare per arrivare proprio a questo obiettivo anche dello stipendio alla fine. Comunque come detto è possibile guadagnare molto bene in England Focus e poi c'è un piano tarifario a scaglione. Quindi se uno ha fatto le prime vendite anche la percentuale cresce e quindi alcuni license partner hanno implementato il sistema, arrivano fino al 75% delle provisioni dopo alcune vendite. Quindi questo soltanto come esempio. E' un certo significativo comunque. Esatto, esatto. E quindi anche questo è uno dei motivi per cui gli agenti immobiliari in England Focus rimangono per tanto tempo perché dal punto di vista economico stanno bene, hanno tutti gli strumenti a disposizione, hanno il metodo a disposizione, hanno questi clienti fidelizzati, anche hanno dei feedback molto positivi che arrivano anche direttamente da me in sede. Quindi è proprio piacere avere questi feedback e poi anche questa passione di lavorare insieme, questa passione del lavoro di gruppo, questo spirito di gruppo con tutta la rete in Italia che fa la differenza. Quindi un clima aziendale molto dimanamico, nazionale, internazionale che fa anche la differenza, che ci fa avere tante candidature di agenti immobiliari, di futuri agenti immobiliari e come detto noi stiamo reclutando 300 agenti immobiliari in Italia e quindi nei prossimi 12 mesi, che non è poco, ma secondo me ci arriveremo, quindi questo è il nostro obiettivo. I colloqui dove li fate? Li fate nella vostra sede di Milano? I colloqui non li facciamo nella nostra sede di Milano, ma potete mandarci i vostri CV direttamente a questo indirizzo email che vediamo adesso sul monitor, quindi italiaghiocciola.englonfocus.com e così ci potete indicare dove vorreste lavorare e poi inoltriamo la vostra candidatura al nostro license partner locale che entrerà poi in contatto con voi. In questo caso quindi con il primo contatto telefonico, un colloquio di pochi minuti e poi c'è l'invito per questo colloquio in loco con il nostro license partner locale. Poi potete trovare tutte le informazioni anche per il reclutamento, una pagina dedicata anche al reclutamento, alle proposte di lavoro, opportunità di lavoro sulla nostra landing page, la pagina online. Questa la trovate, lo vediamo anche qua sullo schermo adesso su www.engelfocus.com.it con tutte le informazioni anche dove siamo presenti in Italia. Io ho fatto soltanto una breve sintesi delle nostre location prima ma così sulla nostra landing page gli accenti immobiliari, i futuri accenti vedranno dove siamo presenti, dove saranno le prossime aperture e dove ci sono le opportunità di lavoro in Italia. Ci hai fatto venire voglia di mandarti un sacco di curriculum, quindi cosa aspettate? Se volete fare un salto di qualità, se non siete soddisfatti del tipo di professione che svolgite ad oggi, sicuramente Engel & Falkers vi propone uno scenario, un punto di vista decisamente alternativo. Christophe, allora, i minuti sono, siamo giunti alla fine, sono terminati. Ti ringraziamo per questa occasione, speriamo di rivederti presto in studio, magari insieme ad Alberto, vedremo quanti agenti immobiliari hanno presentato le candidature. Quindi aspettandoti la prossima volta da Christophe e Gerardo per il recruiting di Engel & Falkers, un saluto e ci vediamo poi alla prossima cosa, a presto. A presto, grazie.